Dopodiché il 20 gennaio interviene di nuovo Gianni Azzaro e dice attenzione, questo non è il PD che mi ha visto amministratore della mia città, non è il PD capace di comporre le divergenze e fare sintesi, quindi a malicuore non rinnoverò la tessera e quindi un aggiornamento rispetto all'intervista, perché lui diceva speriamo di fare pace tra Filippetti e altra fazione, ma questo non è avvenuto. Che cosa te ne sembra anche da osservatore politico di storica veduta? Intanto un'osservazione molto semplice, Gianni Azzaro è stato molto furbo e ha pensato prima che mi cacciano me ne vado io, nel senso che prima che ci sia un provvedimento di espulsione come è accaduto con gli altri consiglieri, perché è chiaro nel momento in cui c'è una linea di partito, questa è la linea del partito, quindi se fai parte di un partito ti adegui a questa linea, altrimenti automaticamente ti metti fuori e quindi automaticamente scattano i provvedimenti disciplinari. Azzaro ovviamente avendo visto la fine dei suoi tre colleghi consiglieri ha pensato me ne esco in maniera elegante, sono io ad andarmene e non a essere mandato io, ma ci sono delle inesattezze molto ma molto pesanti, degli errori amministrativi proprio di conoscenza giuridica molto pesanti, perché nel momento in cui Azzaro dice se arriva il commissario si blocca in buona sostanza tutto, non è affatto vero, ma intanto bisogna dire che nel momento in cui si arriva un commissario, il commissario straordinario per legge assorbe i compiti, le funzioni del sindaco e del consiglio comunale, proprio perché ovviamente non può esserci una vacazio, altrimenti ci sarebbe un vuoto cosmico. Quindi nel momento in cui parliamo di progetti importanti, PNRR, altri progetti, ovviamente il commissario qualunque esso sia porterebbe a termine questi. Ma d'altronde, scusatemi, fa paura il commissariamento, sia esso breve, sia esso più lungo, perché si dice ma in questo modo si bloccherebbe l'attività amministrativa. Ma scusatemi, l'attività amministrativa già ora con un consiglio comunale, con un aggiunta, con un sindaco almeno virtualmente esistenti e presenti, per me sono dei fantasmi politici, però formalmente esistono. Più paralizzata dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista operativo, la città di Taranto non può essere, scusatemi, quando si arriva al punto che la maggioranza o questa pseudomaggioranza non riesce a partorire i nomi dei presidenti delle commissioni consigliari, ricordiamo la funzione delle commissioni consigliari che è una funzione propedeutica all'attività del consiglio, in termini di analisi, in termini di proposta, in termini di denuncia e diciamo quel lavoro di cucina, tra virgolette, passami l'espressione, retaggio delle redazioni giornalisti, quell'attività propedeutica. E quando non ci sono i numeri per far funzionare le commissioni, ma già questa è una paralisi, oltre la paralisi, ripeto, quella che si vede, che ogni cittadino ha modo di constatare, perché si vede una città abbandonata, non vi parlo più della sporcizia, ma pensate il manto stradale, quello che accade, buche, strade, marciapiedi, purtroppo non ci sono neanche i controlli da parte dei lavori pubblici, è una terra di nessuno Taranto, purtroppo. Ecco, oltretutto Abate, per chi non lo sapesse, se ne occupa anche come comunicatore, perché ha una serie di canali di comunicazione sui social, sul suo sito, proprio per segnalare i problemi. L'impresa di comunicazione, che è la mia, Luigi Abate, production e communication, che è la mia azienda. Io faccio l'imprenditore nel settore della comunicazione. E quindi, insomma, ci sono anche delle segnalazioni da questo punto di vista, oltre ad essere attivo nel Consiglio Comunale, si occupa proprio anche di questo.